Il principe Johann Wenzel del Liechtenstein e la contessa Felicitas von Hartig hanno deciso di celebrare il loro amore con una doppia cerimonia. Dopo il matrimonio civile tenutosi ad Aprile a Raduz, in Liechtenstein, la coppia ha organizzato una sontuosa cerimonia religiosa a Vienna. Questa scelta è stata motivata dalla volontà di arricchire l'evento con un rito sacro e un ricevimento lussuoso, creando così un'esperienza indimenticabile per loro e per i loro ospiti. Johann Wenzel, 30 anni, è il figlio del principe Guneikar e della principessa Marie del Liechtenstein, mentre Felicitas, di un anno più giovane, è la figlia del conte Lucas von Hartig e di Claudia Toperkiser. Dopo essersi trasferiti a Vienna per motivi di lavoro, la coppia ha deciso di celebrare il loro amore nella città che ora chiamano casa. Il matrimonio religioso è stato un momento di grande emozione e significato per Johann Wenzel e Felicitas. Entrambi hanno scelto abiti che riflettevano la loro personalità e stile unici. Felicitas ha indossato un elegante abito che esaltava la sua bellezza naturale, mentre il principe ha optato per un curioso gilet rosso chiaro, che gli conferiva un tocco di originalità. Alcuni dettagli del suo abito erano ispirati a quelli indossati dal padre della sposa, che aveva un gilet giallo. Dopo il momento solenne dello scambio dei voti, la coppia è uscita dalla chiesa, accolta dagli applausi dei presenti, e si è scambiata un tenero bacio sul sagrato, manifestando così la loro gioia e felicità di fronte a tutti. La giornata è stata resa ancora più speciale dalla presenza di amici e familiari, che hanno condiviso con entusiasmo questo momento importante nella vita di Johann Wenzel e Felicitas. La coppia ha dimostrato di avere una forte connessione e un amore profondo, che ha resistito alle sfide e li ha portati a questo meraviglioso giorno di celebrazione. Ora, con il loro matrimonio religioso ufficialmente celebrato, Johann Wenzel e Felicitas iniziano una nuova fase della loro vita insieme, piena di speranze, sogni e progetti futuri. La loro storia d'amore è un esempio di dedizione e amore duraturo, che ispira tutti coloro che hanno avuto il privilegio di condividere questo momento speciale con loro. Le congratulazioni e gli auguri di felicità pervengono da tutto il mondo, mentre Johann Wenzel e Felicitas si apprestano a vivere una vita piena di amore e avventure insieme. Real Video vi ringrazia per averci accompagnato fino alla fine. Per rimanere sempre aggiornati sui nostri prossimi video, vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale e attivare la campanella delle notifiche. Grazie per il vostro supporto.